Siamo qui all'evento di Tussati, siamo invitate noi di Salon della Mod, con Gabriella Chiarampa, la mia manager, io sono Lady M, un assista di Cappelli, è un evento riguardante il centenario della Coca-Cola, un bellissimo evento, molti ospiti, un certo calibro, in compagnia di bella musica e un bell'aperitivo di Coca-Cola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.